E' stata una giornata di ghiaccio anche nel comune di Arezzo. Si tratta infatti di un giorno nel quale la temperatura massima rilevata è uguale o inferiore a zero gradi, rendendo così impossibile il disgelo. Insomma, l'effetto Burian si fa sentire anche ad Arezzo, dove la macchina comunale si era già messa in moto nei giorni precedenti. Informando i cittadini, emettendo un avviso meteo interno e poi attraverso la manutenzione strade procedendo a tutta l'attività preventiva, che è quella di spargere sale e risetta sulle principali strade, ma anche su molte strade secondarie. Attivato il piano di protezione civile, in cosa consiste? Il piano di protezione civile per quanto riguarda la neve, il ghiaccio in genere consiste nella divisione del territorio comunale in una serie di zone, ognuna delle quali è presidiata da una ditta, altre zone sono presidiate direttamente dalle strutture comunali con l'eventuale apporto, se necessario, dei volontari di protezione civile. Si sono registrati i disagi per quanto riguarda il comune di Arezzo? Si sono registrati dei limitati disagi dovuti al fatto che ieri sera, nonostante aver distribuito il sale su moltissime strade, in alcuni tratti, soprattutto quelli in maggiore pendenza, c'era una difficoltà a circolare. Purtroppo dei cittadini hanno avuto l'idea di raggiungere addirittura Lignano in quelle condizioni e quindi si sono trovati in difficoltà, nonostante noi avessimo già in parte stesso sale anche su Lignano, però non fino in cima. Cosa ci attende per i prossimi giorni? I prossimi giorni ci attende un cambio della circolazione giovedì ed è un cambio molto delicato dal punto di vista della protezione civile, perché una corrente umida si prevede che raggiungerà da occidente la Toscana. Trovando un cuscino di aria fredda può portare inizialmente precipitazioni nevose che poi si trasformano in pioggia nelle ore successive, ma nelle prime ore si avranno probabilmente, è ancora un po' presto da vedere, giovedì, le precipitazioni nevose sono possibili anche a valle. Grazie.